Andalife è una scoperta che ho fatto, forse hanno scoperto anche loro un Memo Remigi diverso da quello che solitamente si presenta in televisione a cantare la canzone Innamorati a Milano, Io ti darò di più, Cerchi nell'acqua hanno chiamato in un momento in cui avevano bisogno di una canzone che contrastasse i 5 stelle che avevano scelto Rietta Berti che cantava Finché la barca va, lascia l'andare e loro mi hanno chiesto Memo Remigi, vieni a cantare la tua canzone, Io ti darò di più Creiamo il contrasto tra le 5 stelle e noi che proponiamo questa canzone, Io ti darò di più Da lì è nata subito una simpatia reciproca, mi hanno chiamato tutti i venerdì adesso faccio parte di questa famiglia divertente, ironica, spiritosa forse non è una trasmissione di grande popolarità il popolino questa trasmissione non la segue, il popolino nel senso buono coloro i quali amano i programmi diciamo molto diretti e molto nazional popolari questa è un po' una trasmissione particolare, mi permetto di sottolineare per persone che se ne intendono, che hanno voglia di passare quelle tre ore perché è lunghissima in compagnia di questi pazzi che sono Diego, l'altro, Marcus, tutti questi personaggi che fanno di questa trasmissione un momento particolare e diverso dagli altri e come si è trovato, come la vive insomma, sono anche età diverse ma io la vivo con uno spirito nuovo che poi sarebbe il mio perché Memorie Migi quando si parla di Memorie Migi, ah quello di Innamorati a Milano, ah quello di Cerchi nell'acqua dopo Gigi, ma cosa mi dici mai, quelle cose lì che appartengono al passato dopo 50 anni di carriera riesco a fare una trasmissione dove mi ci ritrovo diciamo a livello ironico, divertente, spiritoso quello che sono io in fondo, non molto serio e molto più giocherellone, ecco grazie grazie